love is in the air anticipazione dell'episodio che andrà in onda venerdì 25 ottobre 2024 pyrill è incinta e gli ormoni della gravidanza le causeranno continui cambiamenti di umore che metteranno a dura prova la pazienza di engine che però riuscirà sempre a ricondurre la ragione serkan ha un ennesimo scontro con eda ma deve confessare a engine di amarla ancora iscrivetevi al nostro canale youtube lv essere la squadra se volete avere contenuti su tutte le soppe ma anche su tantissimi altri argomenti buona visione a tutti quanti